Ciao a tutti ragazzi, noi siamo l'XGamer e oggi siamo nel primissimo video del canale Allora, io da ora in po' mi chiamerò XXGamer, il canale è in due, soltanto che mi chiamo Gamer e lui... però siamo l'XXGamer, come tantissimi canali che ce ne hanno in due Allora ragazzi, noi vi diremo che porteremo in futuro, visto che siamo i Gamer, porteremo tanti video sui gameplay Soprattutto Minecraft e varie rocche di Boer Ragazzi, allora, prima di cominciare tutta la madonna, devo fare questo esperimento Ho una biglia di acciale in mano, devo avere se spacco il telefono e il vetro del mio amico Che cazzo c'è mancato? Non ne fai, tocca a me Ragazzi, ci riprovo Allora, se lo piglia, se Simone, se Smith04 prende il telefono e lo fa a cadere, 5 mi piace A cadere no, però Se lo piglia, 5 mi piace, però li devi mettere da una Eh, la madonna Preso! Preso, 5 like 5 like Allora ragazzi, questo video non lo eviteremo perché lo dovrà caricare subito E però vabbè, stiamo già editando il video di Minecraft che uscirà fra poco Ragazzi, vi voglio far capire, il Samsung Galaxy 2 Plus, no? Che burata c'ha proprio Guarda, lei, lei va di lasciare Vai, attenzione 10 mi piace 10 mi piace Ragazzi Vabbè che sembra un deficiente, un morto di fame, però Ancora prende il telefono, cioè porca miseria Ma come cazzo fanno non pensi? Dopo uscirà il video di Minecraft Non fate caso alla foto perché abbiamo preso l'animalaccio a giugno, tipo Quando la cazzo e la pesca era aperta Vabbè, e niente, vabbè Dopo esce il video di Minecraft, lo dobbiamo registrare di da E che dirvi ragazzi, per questo video è tutto Spero che questo canale vi piaccia Dai gamer è tutto Voilà